L'Isola dei Famosi. Stefano Bettarini non sarà naufrago per colpa della Mancini. Come molti sapranno bene, in questa edizione dell'Isola dei Famosi ci sono stati vari ritiri. La prima ad aver abbandonato l'Honduras è stata Chiara Nasti, la quale non è riuscita a superare i primi giorni di difficoltà. Successivamente anche l'ex cronista Francesco Monte è stato costretto a tornare in Italia per difendersi dalle accuse mosse da Eva Enger. E in questi ultimi giorni anche Craig Warby ha deciso di lasciare il gioco perché infortunatosi. Per questo motivo pare che la produzione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi sia alla ricerca spasmodica di nuovi concorrenti VIP, nella speranza di creare nuove dinamiche. E proprio a tal proposito ecco che il settimanale spia ha lanciato una clamorosa indiscrezione, che se confermata avrebbe del clamoroso. Difatti pare che Stefano Bettarini avrebbe partecipato molto volentieri all'Isola dei Famosi 13. Tuttavia, in base alle indiscrezioni raccolte da magazzini, sembra che non fosse gradito ad Alessia Mancini, con la quale in passato, ha avuto un flirt. Per questo motivo la produzione, onde evitare litigi e scenate, ha preferito rinunciare all'ex marito di Simona Ventura. Gli autori potrebbero contattare nelle prossime ore altri VIP. Stefano Bettarini non andrà all'Isola dei Famosi. Colpa di Alessia Mancini Stefano Bettarini non sarà un alfago dell'Isola dei Famosi. Di fatti, in base ai rumor raccolti dal magazzini SPI, pare che l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello VIP non sia affatto gradito ad Alessia Mancini. Per questo motivo la produzione, onde evitare ulteriori polemiche, avrebbe preferito scartare questa soluzione. E se fosse confermata questa indiscrezione, per Stefano Bettarini non sarebbe nemmeno la prima volta a non essere stato preso come concorrente nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi per una ragione del tutto simile. Il motivo? Per i pochi che non lo sapessero, la produzione avrebbe voluto avere come concorrenti due edizioni passi a lui che la ex moglie Simona Ventura. Tuttavia quest'ultima ha subito posto il suo veto, arrivando a dichiarare che se ci fosse lui non avrebbe mai partecipato. Per questa ragione gli autori sono stati costretti ad abbandonare questa idea, preferendo tenersi stretti la ginonica conduttrice di selfie, le cose cambiano. Comunque si appare non essere stato l'unico in queste ultime ore ad essere stato contattato dagli autori del reality. Infatti, come riportato da Alberto Dandolo su Oggi, la produzione pare abbia cercato. Anche Max Biaggi e Nike Rivelli, i quali avrebbero rifiutato seccamente. La Magnolia avrà qualche altro asso nella manica da sfoderare? La Magnolia avrà un'esercizio, i quali avrà un'esercizio, i quali avrà un'esercizio.